Eeeh ciao ragazzi qui è Subbit e benvenuti in questo nuovo video sottospecie di tutorial di Xenoverse 2 quest'oggi vi farò vedere in poche parole tutti i miei deck che mi hanno accompagnato in questa grandissima avventura che ho avuto anche un grande successo qua su Youtube ci tenevo un po' a farvi vedere tutti quanti i miei deck perchè purtroppo come voi ben sapete a malincuore io ho dovuto abbandonare questo format del semplice fatto perchè con l'avvenire di PS5 oramai non si trovano più avversari sulla PS4 anche se c'è una sottospecie di modalità ma è un po' complicato perchè anche con giocatori di PS4 non compaiono mai e quindi io ho deciso per forza di abbandonare questa modalità però a malincuore l'ho dovuto fare perchè purtroppo mi ha accompagnato in una grande avventura di Youtube bando alle ciance e direi di iniziare a farvi vedere naturalmente guardatevi il mio avatar nella sua forma ultra istinto padroneggiato se questi avessero messo la trasformazione in ultra istinto padroneggiato almeno uno era contento però è un dettaglio questo cominciamo andiamo nella selezione ancora tuttora non sono arrivato al livello 99 perchè io adesso ci gioco raro a Xenoverse sto giocando un po' con gli altri patroller un po' per andare avanti anche col finire il gioco con tutta onestà infatti vedete sono ancora di livello 84 invece se lo vedrete più tardi sono arrivato allora per quanto riguarda la creazione di un mazzo io già feci anni fa un video simile ma attenzione ragazzi come tutti voi ben sapete nell'Iro Colosseum c'è stato un periodo dove sono stati solo ed esclusivamente hacker e hacker diciamo che era il periodo del 2018 e 2019 che pure io una volta feci un video con un hacker ma farvi vedere proprio lo schifo di quegli hacker cosa hanno rovinato che avevano quasi rovinato bensì un gioco attenti però però c'era un dettaglio particolare allora naturalmente cominciamo con un deck che alcuni sono definitivi ma altri sono ancora provvisori cominciamo invece con questo il deck numero 8 come ci do il soprannome del deck forte perché dato sì che ho anche il nuovo Gogeta Super Saiyan Vegeku livellato al 99 Pai Kwan Black Goku Super Saiyan Rosé e Goku Ultra Istinto ma attenzione ragazzi voi vi domanderete perché hai messo questi mazzi del semplice fatto perché se ci riflettete bene e dovete analizzare bene ogni deck che anche il vostro avversario ha in base a come vedete che va di andamento perché come potete ben vedere il mio Gogeta è fatto così Vegeku guardate di attacco quanto leva 6.000 di attacco io l'ho pompato proprio sull'attacco proprio in modo da fare così Pai Kwan è la nuova miniatura aggiunta da poco col dodicesimo DLC ma è un dettaglio per quanto riguarda invece aspettate ho fatto una cazzata per quanto riguarda invece Black Goku Super Saiyan Rosé ragazzi attenzione non lo sottovalidiamo perché può essere davvero un'ottima miniatura ma passiamo invece alla miniatura per eccellenza ovvero l'ultra istinto padroneggiato che è quella più forte di tutto il gioco insieme al Gogeta Super Saiyan di quarto livello ragazzi guardate io l'ho pompato guardate bene l'attacco del Gogeta del Goku a quanto l'ho messo a 10.000 purtroppo perde di salute infatti io penso che se mi usciranno doppioni di questo lo dovrò pompare solo ed esclusivamente ora solo sulla salute e una sola volta solo di attacco perché ricordatevi che l'attacco prende solo 100 ricordatevi questo naturalmente mi soffermo solo sulle miniature più importanti ah naturalmente non è detto che voi dovete copiare i miei deck cioè ognuno di noi qua è libero di pensarla diversamente da me ora passiamo aspettate un attimo fatemi vedere adesso passiamo al deck bastardo che si chiama bastardo perché guardate chi c'è c'è Gohan Gohan del futuro UR a livello 99 poi un'altra volta Goku C21 ragazzi non lo so attualutate Android numero 21 è una buona UR veramente e poi c'è Gogeta Super Saiyan Blue e Junior che Junior lo vedrete in quasi tutti i deck non proprio tutti ma purtroppo Junior come voi ben sapete ti protegge dagli attacchi diretti sul maestro ma è poco se non ti becchi le miniature bastarde Gohan era la UR che io cercavo all'inizio ma prima ancora che fosse introdotto Goku ultra istinto ci vengo a dirvelo è bastardo perché del semplice fatto sono pompati sulla velocità anche il Gogeta ma guardate bene in basso a destra dello schermo Gogeta non è pompato neanche una volta ma ha la velocità altissima invece per quanto riguarda Android numero 21 è pompato molto sull'attacco perché ragazzi ricordatevi in basso alle miniature o ai deck che voi avete è più o meno simili adesso vi ho fatto vedere il deck bastardo ma passiamo al deck a un deck veramente facile questo è facile il sesto mazzo è facile perché invece al posto del solito Gogeta ho voluto inserire quello che ha meno velocità per sicurezza poi ho voluto inserire Vejeku perché Vejeku è questa è la OR più forte veramente che ti dà una grande mano e ti salva il culo il più delle volte scusate il termine e poi naturalmente Gohan per andare un po' più veloci il deck numero 5 che come ben vedete c'è Goku Super Saiyan Super Ischilon e Kefla Super Saiyan naturalmente stesso concetto di Junior e di Goku lo sapete perché ho voluto inserire quel Goku attenti perché il più delle volte quel Goku ti para il culo infatti io questo deck lo chiamo il deck intelligente perché sono stati intelligente perché Kefla la puoi mettere dietro a Junior in alcuni casi ascoltatemi se non volete essere non volete usare Goku ultra estinto lo potete mettere tranquillamente dietro a Junior perché questa è la cosa intelligente ragazzi io l'ho fatto anche anche nel deck quello nel deck bastardo pure stesso identico concetto di questo deck io se sono in difficoltà metto Goku dietro a Junior così vanno attacco sul maestro però alla fine io posso distruggere con un sol colpo l'avversario Goku è perché a volte nei bonus ti dà una mano e l'ho voluto usare superiscilo nei casi in cui vedo un deck abbastanza stupido anche col computer oppure come abbiamo fatto nella sezione versus come voi ben sapete lo mettevo anche davanti per ragione di sicurezza Kefla invece fa un danno della miseria aspettate un attimo vediamo un po' no non fa un danno della miseria ma a tantissima velocità infatti io questa l'ho pompata molto sulla velocità ma poi dopo anche come voi ben vedete anche sulla salute un po' perché la salute è importante ah eccolo qua il mio deck preferito ragazzi il mio deck preferito il numero 4 si chiama il deck veloce perché è formato da un'altra tipologia di ur di goku ultraestinto vegeku goku super saiyan dio sel e gohan naturalmente guardate qua perché si chiama veloce guardate bene questo goku a 4.000 di velocità vegeku 4.000 di velocità goku super saiyan dio 4.000 di velocità sel 5.000 di velocità gohan 6.000 questo qua è il deck proprio della velocità perché l'ho voluto basare solo ed esclusivamente sul criterio di attaccare sempre per primo perché come vi ben sapete se hai anche un buono un buon attacco come ce l'ha questo deck anche se sel perde un po' di attacco ma alla fine l'importante è qua è solo per attaccare per primo e qua ho fatto veramente una grande furbata ragazzi veramente sono contento di me di aver creato questo deck della velocità questo invece è il deck il deck numero 3 è il deck del non lo so il deck non lo so funziona così è stato reinserito di nuovo goku super saiyan blu gogetta e vabbè goku e junior loro ci sono sempre perché servono anche nei momenti un po' critici ma c'è janemba janemba l'ho voluto ammettere del semplice fatto perché ha anche una buona buona velocità infatti come ben vedete l'ho potenziato e gli ho potenziato mi pare o la salute o l'attacco non mi ricordo però era l'unico modo per poterlo fare questo gogetta ragazzi guardate quanta velocità ha pompato veramente bene cioè ha voluto mettere la difesa alta infatti guardate fa difesa su se stesso difesa giù su tutti gli avversari e si può ripetere e danni infiniti su di lui stesso quando attacca l'ho voluto fare così del semplice fatto perché mi trovo ora passiamo al deck competitivo competitivo perché adesso vedete che c'è solo junior come è gogetta come voi ben sapete è black goku black goku l'ho inserito perché nei momenti competitivi in cui non voglio usare junior metto questa miniatura di black goku super saiyan rosé in modo che possa e dico possa attaccare lui per primo poi c'è giren giren ur che ha un'ottima velocità l'ho pompato un po' sull'attacco ma anche un po' difesa su tutti meno difesa agli avversari su che si può ripetere in modo da essere più furbo e poi c'è la nostra c18 in bichini ho voluto mettere questa c18 perché come voi ben sapete se è posizionata sulla casella di attivazione al primo round ti blocca tutti gli avversari ma non si può ripetere attenzione attenti per adesso non si può ripetere quindi questo lo reputo questo deck il deck competitivo perché al più delle volte o uso il competitivo o uso quello intelligente per sicurezza e ora passiamo invece all'ultimo deck basato solo sul secondo se se vedo un avversario veramente fortissimo questo deck non è ancora definitivo infatti la batteria del joystick si sta scaricando va bene finisco dicendovi che veramente per per questo ho dovuto mettere un janemba janemba guardate a quanto l'ho dovuto mettere a molto attacco ma a meno difesa ho voluto fare così solo per attaccare per secondo gogetta ho voluto mettere questa miniatura perché vedete con la salute sta a 10.000 ma perde un po' in attacco purtroppo ho messo c18 questa qui purtroppo ma sempre per attaccare per secondo mi serve ha molta salute ma mi reagisce meno sull'attacco vegeta super saian blu attenti ragazzi che non si deve sottovalutare questa miniatura questa qua il più delle volte si è attaccata per secondo infatti ho messo danni infiniti su secondo attenti che quella questa qua vi può veramente salvare il culo e vabbè poi naturalmente c'è junior ma solo pompato di salute e di attacco in modo che può attaccare per secondo e attacco giù su tutte le miniature che si può ripetere ragazzi io vi ripeto è stato veramente è stato bello veramente portarvi questa modalità che è veramente su youtube mi ha fatto avere un grande successo lì lo colosium veramente un grandissimo successo mi ha fatto avere io sono veramente contento di avervi portato questa modalità che non pensavo che nell'arco di quasi di ben due anni mi ha fatto avere un grande successo veramente non lo sapevo va bene ragazzi io il video lo posso chiudere qua vi invito a lasciarmi un bel mi piace un commento qua da sabbit è tutto e noi ci vediamo al prossimo tutorial grazie a tutti